ciao benvenuti sul canale benvenuti alla serie cut of the day oggi un gatto al giorno ogni giorno un gatto nuovo non scherzo è sempre lui è sempre Oggi è sempre lì è piantato qua non si muove più di qua sto registrando tutta una serie di video e lui è piantato qua perché gli piace stare qua lui è un gatto che gli piace è un gatto attore anche se poi dici quando ti metti a fare le foto a questo gatto qua poi lui si gira scappa se ne va perché è un gatto un gatto è fatto così gatti sono fatti così lo sapete quando gli fa comodo fanno quello che vogliono però se tu gli vuoi far fare qualcosa prendersene vanno perché sono gatti sono gatti gatti sono fatti così sono stronzoni eccoli allora qua io c'ho una bella macchinina da farvi vedere per il car of the day e quindi volevo vedere un attimino se riesco a farvela vedere cosa dite cosa facciamo questo gatto qua Oggi ci fai vedere questa macchinina o qua pure c'è Zanni non possiamo vedere la vediamo solo te allora guardate un po' è una macchinina che ho fatto presentata è proprio fresca fresca uscita in questi giorni l'ho presentata l'altra volta nel case K quindi adesso sto aprendo un po' anche a quelle lì perché sono macchinine che oh no Oggi 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 dai non è un cat of the day non è un gatto al giorno non è un gatto al giorno un gattaccio al giorno dai cosa facciamo Oggi cosa facciamo dai cioè è tutto disteso lungo ecco le zampe spinge dietro spingela dietro questo è la dragone qua ecco spinge lo sfondo si mette tutto lungo perché io non sembra un gattino ma è un gatto lungo lui ecco allora Oggi ci fai vedere questa macchina dai che stanno aspettando è una macchina incredibile un vero bolide questa macchina che vuoi farvi vedere oggi se Oggi ci lo fa vedere allora Oggi lo sanno tutti che sei un gatto bellissimo lo dicono tutti che sei un bel gatto anche che sei un rompiscatole però eh che sei un rompiscatole dai vieni qua vieni vieni cosa facciamo aspettate un attimo che vediamo un po' se riesco a corromperlo eccoci qua cercate un po' di corromperlo ma non so quanto dura un paio di minuti e qua allora dicevo Oggi la presentarvi un vero bolide una macchina che vorrebbero tutti desiderio di tutti 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 eccola qua Bugatti bolide insomma volerla sì avercela sarebbe bellissimo avercela ecco si incazza Oggi sentite questa rabbia averla sì perché però effettivamente vai a fare un giro poi ti passa la voglia perché perché consuma come una matta come una petroliera consuma come si diceva una volta consumano come delle petroliere queste macchine qua e questa è la bolide se non sbaglio era già uscita adesso stavo guardando ho preso il case delle qua delle Bugatti e che devo fare devo ancora finire perché ne ho diverse in giro devo sistemarle un po' tutte però ho detto iniziamo un po' anche a aprire quelle ultime prese perché se no poi le lasciamo lì poi rimangono indietro quindi tanto apriamo anche queste tanto dobbiamo aprire tutte quindi questa è la bolide che è uscita adesso e questa è la 185 di 250 è uscita nel case K e quindi l'avete vista l'altra volta e poi adesso la apriamo eccola questa è nera e gialla vedete nera e gialla qua tutto trasparente tutta in metallo qua sotto trasparente c'ha praticamente pianale piatto effettivamente queste macchine qua c'ha l'estrattore d'aria queste macchine qua hanno il pianale piatto anche la mia coupé c'ha il pianale piatto la mia macchina è un po' sportiva c'ha sotto è tutta piatta perché per renderla più aerodinamica qua un sacco di prese aerodinamiche devo dire la verità come Bugatti questa non è che mi fa impazzire però vabbè è pur sempre una Bugatti è pur sempre una Bugatti Bugatti un nome italiano Ettore Bugatti era un italiano che poi è andato in Francia e ha prodotto queste macchine qua proprio della Bugatti si parla di del secolo scorso è inizio del secolo scorso poi dopo la Bugatti è passata in mano di altre persone è tornata in Italia l'ha fatto l'IB 110 con Artioli e poi dopo è ritornata in mano francese adesso in mano tedesca di la verità perché la Bugatti del gruppo Volkswagen quindi è tedesca abbiamo perso tutto 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 va bene eccola qua questa è la Bugatti punto bolide ed era già uscita in in questa colorazione non mi ricordavo neanche più che fosse già uscita pensavo che fosse una mera novità invece era già uscita se riesco a prenderla eh vediamo un po' se riusciamo a tirare su dell'allettone eccola vediamo un po' eccola qua era già uscita in questa colorazione qua vedete in questo bluetto qua però se non sbaglio vabbè sì c'hanno le luci dietro perché anche questa ha le luci dietro vedete ha le luci dietro quindi andiamo un po' di aumentare un po' la luce qua ecco c'hanno le luci dietro questa fa la neria così perché ormai adesso con i led fanno i fanali un po' come vogliono davanti invece beh non so neanche se nella realtà si vedono i fanali davanti eh quindi è fatta così quindi è uscita adesso in questo giallo senape nero la prima è la prima uscita in questo azzurro e nero eh questa è la Bugatti bolide c'hanno due cerchi no gli stessi questa c'ha i profili neri e questa c'ha i profili gialli è un altro giallo rispetto a quello che c'è lì vabbè potevano fare lo stesso giallo quindi questa è la bolide poi ripeto quando era nel periodo italiano è uscita questa ecco che questa è la B110 SS addirittura che è uscita in giallo poi era uscita in azzurro in azzurro vedete che bello sta Bugatti è una macchina particolare eh questa è una linea un po' più umana naturale queste sono linee veramente un po' esasperate eh poi cos'è uscita questa è della Matchbox se non sbaglio sì questa è della Matchbox questa qua è la Divo la Divo della Matchbox vedete così in grigio opaco guardate che bella sì l'ultima questa qua la bolide è un po' esasperata la Divo poi cosa c'è qua un'altra Divo questa sì un'altra Divo sempre della Majorette vedete scusate della Matchbox vedete un'altra Divo poi è uscita questa questa è una Hot Wheels della Bugatti Chiron in questo nero metallizzato grigio scuro metallizzato di queste abbiamo diverse poi è uscita questa sempre la Chiron in questo bluette vedete questo bluette col pianale azzurro poi è uscita questa questa invece è una Hot Wheels è una premium diciamo eh infatti Bugatti Veyron nel 2002 vediamo questa colorazione qua opaca questa qua erano quelle che costavano di più infatti vedete più dettagliata eh insomma è un po' pacciugata vabbè ecco queste sono alcune delle bugatti che abbiamo però so di averne delle altre eh perché quello lo so ne ho delle altre devo poi cercare sistemarle eh sapete la storia ormai è lunga ormai ve lo dico tutti i giorni devo sistemare quando non avete quando si hanno attualmente tante tante macchinine saremmo avanti più di 9000 macchinine perché facciamo altro che comprare macchinine non so più dove metterle sto impazzendo più che altro eh mia moglie che mi caccia via prima fuori prima poi fuori di casa anche i miei figli non so più dove vogliono mettere queste macchinine c'ho tutte non catalogate tutte messe da parte eh nei miei spazi eh per fortuna però logicamente c'ho tutte le parti c'è nel senso veramente ce l'ho nelle scatole ce l'ho da aprire ce l'ho nei blister ce l'ho nelle scatolette ce l'ho nelle valigette nei scatoloni insomma e non ricordo più neanche quelle che ho so che di Bugatti ne avevo delle altre perché bene o male l'ho sempre prese tutte quelle che sono uscite quindi ne ho delle altre vabbè dai quindi questa è la bolide che è uscita adesso quindi sicuramente ecco qua non ci sta sicuramente se andate la trovate o la troverete perché sta uscendo nel case K quindi come sapete case K è appena uscito ecco qua anche questa ci sta eh come la mettiamo che sarà un po' volumino questi case qua sono belli però sono un po' troppo su misura dopo tutto sono fatte per per chi va a pesca mi sembra eh per cose di pesca vediamo un po' questa non ci sta e allora per quello che avevo messo avevo messo questa qua vediamo che casino tutte queste macchinine ecco forse la mettiamo bene magari invece che sotto sopra poi c'è anche la serie mi sembra della insomma della forza anche Bugatti della forza quindi c'è no c'è no delle altre eh ecco li mettiamo queste qua questa qua ecco qua questa è una delle valigette Bugatti però sappiate che ne ho delle altre tante altre eh adesso piano piano compro un po' la valigetta poi compongo la valigetta prima o poi e niente quindi questa è la Bugatti bolide appena uscita in questo giallo qua infatti a 185 250 ma è già un recolor quindi niente ci vediamo domani con un nuovo video come sapete ogni giorno un video nuovo tutti i giorni 18 e 30 vi aspetto numerosi 18 e 30 appuntamento fisso allora se non è ancora fatto mi raccomando lì iscriviti al canale suona campanellina se ti fa piacere guarda anche quel video lì ci vediamo domani con un nuovo video che sia un car of the day o un vintage o presentazioni di altre macchinine mi raccomando eh ciao